Siamo venuti a incontrare non solo una terra, ma siamo venuti a incontrare delle persone. Siamo venuti a incontrare delle persone che vivono in realtà spesso conflittuali, qualche volta contraddittorie, qualche volta disastrate, ma che hanno una grossissima passione e che pensano che con il contributo personale e con il contributo collettivo si possa modificare le situazioni attuali. Conoscere da vicino altri luoghi e altre realtà, scoprire esperienze positive e percorsi di legalità oltre il muro uniforme degli stereotipi. Un progetto di scambio culturale coinvolge un gruppo di ragazzi veneti guidati da Don Luigi Tellatin, referente dell'Associazione Libera, che hanno visitato Barra, La Sanità e Afragola assieme ad alcuni coetanei del territorio. La prima volta che sono venuto a Napoli non c'era nessuna cooperativa di Libera Terra. Adesso ci sono parecchie cooperative, stanno crescendo queste cooperative. Io credo che sia una sensibilità, ma anche una carica e una passione nuova che fanno di Napoli una città ricca e desiderosa anche di cambiare nelle parti peggiori. I ragazzi sono stati quindi ricevuti a Palazzo San Giacomo per uno scambio di opinioni sulla legalità assieme al vice sindaco Raffaele Del Giudice. L'idea poi di trasmettervi il futuro come minaccia è terribile. È terribile. Il futuro è un grandissimo investimento. Ma di passione, di speranza, di voglia di anche ripellarsi in maniera sana. Sono stati tutti dei ragazzi, no? È l'Italia che si avvicina a una Napoli di resistenza contro le legalità, contro tutte le camurre e le eco-mafie che da molto tempo stanno attanagliando il nostro territorio. Questa è anche un'esperienza per fare il tessuto Italia. È un'esperienza per fare il sistema Italia. Non si può pensare di sconfiggere le mafie soltanto con la repressione. E allora io spero che questo rimanga dentro nei ragazzi e spero che i ragazzi sentano l'urgenza di non vivere mai da indifferenti e tanto meno da sconfitti.